Una corsa gratis in taxi per tutti gli ultraottantenni soli che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-19. Si intitola Ti accompagno io, l'iniziativa messa in campo a Roma dalla Fondazione Ania, realizzata con la collaborazione della cooperativa Radiotaxi 3570 dell'Associazione Indagini 3 della Fondazione Univerde con il patrocinio di Roma Capitale. In una settimana, dal 10 marzo, già un migliaio le persone che hanno usufruito del servizio, che è valido sia per l'andata che per il ritorno. Le persone che hanno più di 80 anni e non possono contare su nessuno che le accompagni ad effettuare il vaccino potranno così chiamare lo 063570 e richiedere un taxi facendo presente di essere un ultraottantenne. Il progetto Ti accompagno io è stato fortemente voluto dal settore assicurativo italiano. Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania. La Fondazione Ania, il mercato assicurativo è stato sempre vicino alle persone che possono essere in maggiore difficoltà. Abbiamo preso in considerazione il fatto che molti di oltreottantenni non hanno la possibilità di avere qualcuno in grado di poterli accompagnare durante questa campagna vaccinale. Per questa ragione abbiamo immaginato di fare un doppio servizio utile, da una parte aiutare queste persone a regarsi verso le strutture preposte alla vaccinazione e dall'altra dare un supporto anche alla categoria dei tassisti che è stata fortemente provata da questa grave crisi economica. Chiaramente i tassisti di Roma, perché su Roma siamo riusciti per ora a fare questa iniziativa e devo dire, credo, con buoni riscontri. La cooperativa Radiotaxi 3570, da sempre attenta alle tematiche di carattere sociale ed ambientale, ha subito sposato l'iniziativa. Loreno Bittarelli, presidente della cooperativa 3570. Le persone che trasportiamo sono felicissime di questa iniziativa che gli sta consentendo di recarsi a vaccinarsi che diversamente in tanti casi non avrebbero potuto perché magari sono anziani soli che non hanno nessuno che li potrebbe, che li avrebbe potuti accompagnare. Quindi ci prendono proprio come angeli piovuti dal cielo, insomma, quando le andiamo a prendere, quando le riportiamo a casa. È un'iniziativa molto bella che chiaramente ringrazio per questo Ania che l'ha ideata. Noi abbiamo subito accettato il loro invito di partecipare, collaborare a questa iniziativa.